Riconquistare il Ferraris, lo stadio di Imarassi, lo stadio di casa per tornare a sognare un posto in Europa. E' questo l'obiettivo del Genoa che nelle prossime tre gare sfiderà Udinese, Cagliari e Parma. Tutto in dieci giorni, tutto al Ferraris. Gasperini vuole vincere tutte e tre. E' l'unico modo per rimettersi in carreggiata, per provare a dare un finale col brivido di campionato. Ai tifosi che sognano in grande, sognano la competizione continentale. Al Ferraris quest'anno, meno punti che in esterna. Riconquistare lo stadio di casa è fondamentale per tornare a sognare. E allora si parte dall'Udinese con un Borriello in più in attacco. Gasperini potrebbe scegliere lui e non neanche. Comperò Tiglago Falchi in mezzo al campo. Si rivede Tino Costa al debutto dal primo minuto dopo oltre due mesi di infortunio. In difesa Roncaglia, colpito dal jet leg, non dovrebbe farcela. E' tornato solo questa mattina ad allenarsi e quindi spazio al giovane Izzo che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2019.